Siamo una piccola azienda, veniamo dal centro della Sardegna, cioè proprio da Ottana, dove ci occupiamo di realizzare prodotti di nicchia del nostro territorio, dove li offriamo ai nostri clienti, perché noi prevalentemente lavoriamo qua in Costo Meralda, siamo otto anni circa e quindi facciamo un servizio sia per gli hotel, ville e yacht. Quindi abbiamo la richiesta di questi prodotti particolari sardi, cioè dal pane carasau al pane gutiao fatto forno a legna con farine sardi, dolci tradizionali della nostra zona, tipo saranzada, tipo giupistidio, facciamo i sacchetti in tessuto sardo, formaggi pecorino sardo, tutti biologici, tutti aromatizzati, sia al pepe nero, sia al tartufo, sia alle noci. Sia innovazione che tradizione, fai l'innovazione però ottenendo sempre le tradizioni sarde, quindi devi studiare sempre dei prodotti nuovi da abbinare perché i clienti hanno delle necessità particolari. Ci siamo da anni, ok, siamo già fornitori ufficiali di Starwood e quindi per noi è una garanzia perché lavoriamo benissimo e quindi alla fine vale la pena venire perché poi tramite loro c'è un altro cliente che vendono i prodotti e ci vengono richiesti. Grazie per la visione!